Vi chiedete come sia l'HR perfetto? Eccomi, mi chiamo HR9000, sono il risultato della più alta ricerca tecnologica applicata ad un responsabile delle risorse umane, ma molto meglio di un umano. Cos'ho in più? Agilità, rispondo in modo efficiente ad aspettative mutevoli. Comunicazione, anche in assenza di informazioni. Analisi, i dati non hanno segreti. E poi problem solving, descrizione, ascolto. Ma soprattutto la mia specialità sono i colloqui. Buongiorno, grazie. Quindi, per quale motivo dovremmo scegliere proprio lei per questo ruolo? No, no, non è che dovete, ci mancherebbe. Una volta mi hanno scelto come segretario alla riunione di condominio. Poi ho capito che non era il mio forte. Eh, io forse sono più creativo. E poi in gruppo no, che mi confondo. Intendevo dire, qual è il suo valore aggiunto? Ecco, magari il lavoro di gruppo no, ma su dare ordini. Snoop mi ascoltava sempre e io gli ho insegnato molto spesso. Mi scusi, stupera il mio cane. Il valore aggiunto. Cioè in realtà non era mio, ma del mio vicino. Il valore aggiunto. Lei vuole sapere come veda tra cinque anni. Ricco? Sì, ma sa che lo vorrei troppo. Il valore aggiunto. Martedì e giovedì. La città non mi basta più. Voglio avere una casa più grande. Trovare un lavoro che posso fare da remoto. Non sarebbe bellissimo. Coach Hub rappresenta uno strumento innovativo, flessibile nei tempi di utilizzo e anche nelle modalità di erogazione. È di facile fruizione e i miei coach sono di alto livello. Ne abbiamo subito sposato la mission, quindi democratizzare il coaching. Le sfide che Coach Hub ci ha aiutato ad affrontare sono state molteplici. Al prossimo episodio Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti